Degli allenatori nulla, perché non mi sono mai permesso di interferire con loro, se non magari chiacchierando del più e del meno dell'andamento della partita, ma senza mai dire o dare a loro indicazioni di alcun tipo. Per il resto credo che non ci siano stati motivi particolari, non credo, o meno non ricordo. Grazie a tutti.